Il teatro superga. Il teatro superga rappresenta sicuramente la punta di diamante dell'azione culturale del nostro territorio. Al teatro la gente può assistere a spettacoli di lirica e di prosa. Gli abbonati ormai hanno superato la soglia critica, abbiamo un indice di riempimento che sulla lirica è praticamente del 98%, sulla prosa sta crescendo di anno in anno, ma noi siamo soddisfatti soprattutto per l'altissima qualità degli spettacoli, che ormai viene riconosciuta un po' da tutti, apprezzata dal pubblico, apprezzata dalla critica, apprezzata dai visitatori. L'obiettivo adesso è quello di potenziare il nostro teatro, ristrutturandolo, facendo sì che questo sia un teatro a vocazione teatrale, quindi con torresceniche, con tutta una serie di lavori che sono stati posticipati, ma che ormai diventano inderogabili per arrivare un po' al top della qualità piemontese. Grazie.